Ripartire dalla formazione politica per costruire la classe dirigente del futuro. Sono queste le parole chiave con le quali Riccardo Pilat ha introdotto stamattina la presentazione dell'evento Trieste al centro d'Europa organizzato da Giovani Europa Trieste e che si svolgerà sabato 12 marzo presso la sala Piccola Fenice di via San Francesco 5. Trieste al centro d'Europa è un evento politico a partito creato da giovani per giovani, un evento che è riuscito a coinvolgere oltre 40 personalità dell'ambito politico, economico e sociale che saranno partecipi per 100 ragazzi per l'evento mattutino, un evento che servirà per prima cosa a dare formazione ed essere come punto di base per uno scambio generazionale, per un momento di confronto su idee e su temi di attualità. La manifestazione sarà divisa in tavoli tematici, ciascuno guidato da un redatore istituzionale ed uno locale e dedicati all'immigrazione e sicurezza, alle infrastrutture e trasporti, allo sviluppo economico e start-up, agli affari regionali e denti locali e alle sfide climatiche e alla sostenibilità. È un evento importante, un evento che può essere un primo passo per un percorso, un percorso fatto assieme ai giovani e soprattutto un evento che pone il suo accento come sfida per le prossime generazioni. All'evento mattutino, che avrà inizio alle ore 10, potranno partecipare tutti i ragazzi Under 35, mentre al pomeriggio si svolgeranno due conferenze, la prima dedicata alla buona amministrazione, con relatori tra gli altri il sindaco di Venezia Brugnaro, e la seconda sul tema macro-regione specialità del Friuli Venezia Giulia, con relatore l'ex presidente Renzo Dondo. Per partecipare all'evento è molto semplice, possono guardare i nostri social, c'è un'email giovaniauropats.gmail.com, si accreditano e scelgono il tavolo in cui vogliono partecipare.